Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi porto in esterna questo lo scenario perché approfitto di questa bella giornata per fare una camminata e esporvi quello che ieri ho visto e che immaginavo che prima o poi sarebbe accaduto. Prima però vi faccio vedere quello che indosso. Ed è questo fantastico orologio vintage Nostel Eco. Se poi volete vederlo più da vicino farò un video dedicato. Ma partiamo con la sigla e poi analizziamo l'argomento. Come detto nella intro immaginavo che qualche marchio avesse diciamo copiato l'operazione Omega Press Watch o Blunt Pen Press Watch. Ma quello che non potevo sapere è che lo facesse un gruppo come Invicta. Prima con il marchio sempre della sua scuderia Tecno Marine, vi metterò le foto, dedicato ai 5 elementi della terra. E poi con più o meno la stessa modalità, quindi sempre dedicati ai 5 elementi della terra, 5 orologi Glissin Press Watch. Ora immagino che questa operazione sia volta chiaramente per fare in primis dei numeri di vendita. Anche se gli orologi a quanto ho capito sono proposti in edizione limitata di 250 pezzi per elemento. C'è quello dedicato all'acqua, quello dedicato al fuoco, quindi ce ne sono 5. Sono dei crono con movimento al quarzo ronda, hanno un diametro di 41 mm, sono fatti in acciaio e hanno dei fondelli diciamo a tema appunto riguardanti gli elementi della terra. Ora viene da sé che è importante analizzare la cosa partendo dal parallelismo con il gruppo Swatch. Lì è stata una operazione a mio avviso geniale sia per quanto riguarda l'aspetto marketing ma anche perché il gruppo Swatch ha omaggiato dei modelli iconici che aveva diciamo in casa partendo dal Moonswatch di Omega e adesso il più recente Blampen 50 Phetoms. Quindi facendo questa premessa e quindi questo parallelismo non riesco davvero a comprendere la direzione del gruppo Glissin. Cioè l'orologio che omaggio a Glissin è un invicta. E perché far conoscere alle persone questo modello? Non è iconico, a mio avviso non è neanche bello, quindi davvero penso al riguardo che sia un'operazione commerciale destinata al fallimento. Malgrado il prezzo di listino di questo orologio sia intorno alle 440 euro scontati, che già sono disponibili sul sito e già anche questa la dice lunga, scontati direttamente a 288 euro. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Ci tenevo a sapere anche la vostra, scrivetemelo pure nei commenti, se vi piace comunque questa operazione, comunque trovate carino il lancio di questi prodotti. Io ho espresso la mia e purtroppo al riguardo negativa. Cavolo, avrei potuto capire se avessero fatto il l'Irman e quindi l'invicta per Glissin riproponendo un modello storico come l'Irman. Forse avrebbe avuto più senso. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e mettete anche il like, che fa sempre piacere. E noi ci vediamo, alla prossima!